Ciao amici, bentornati ad una nuova puntata di Per una gioia più grande New Reel. Oggi abbiamo con noi Raffa. Ciao Raffa, chi sei? Presenta. Ciao, mi presento, sono Raffa. Ho 24 anni e sono una studentessa universitaria in scienze dell'educazione. Una delle mie passioni è sempre stata la musica. Infatti, chi mi conosce, mi conosce come bassista. Però era da tempo che cercavo un modo per poter tirare fuori tante cose tenute nascoste dentro di me. Ed è così che ho iniziato a dedicarmi alla scrittura di brani. Allora Raffa, è uscito il tuo primo singolo che si intitola Forte e Fragile. Qual è il messaggio di questa canzone? Quello che viene rappresentato è un dialogo a tu per tu con il mio limite. Questo limite si è creato all'inizio come protezione da varie sofferenze, che però con il passare degli anni iniziava a starmi stretto. Vivevo nel buio nascondendomi in questo mio rifugio, nella quale però non riuscivo a vivere le relazioni con gli altri, perché mi isolavo, mi chiudevo in me stessa, fino al momento in cui è arrivato lui, Dio. Grazie al suo amore sono stata portata alla luce e ho iniziato a vivere. Nel singolo utilizzo la parola lui senza dare un nome preciso, perché per me il salvatore è stato Dio, ma chi ascolta può trovare la sua salvezza in qualsiasi persona. Per una gioia più grande!